La ASL di Pescara chiude il proprio bilancio in rosso anche nel 2021, la perdita di quasi 3 milioni di euro, una cifra che smentisce tutte le propagandistiche dichiarazioni del Presidente della Regione Abruzzo e dell'assessore regionale competente Nicoletta Veri sul presunto pareggio di bilancio che la sanità abruzzese avrebbe raggiunto risanando i propri conti. Ad affermarlo questa mattina è stato il Vice Presidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che è carte alla mano, ha svelato quella che è a suo dire la reale fotografia delle casse dell'ASL di Pescara. Numeri alla mano, dati alla mano abbiamo fatto un dossier sul bilancio dell'ASL di Pescara che nel 2021 chiude con meno 3 milioni di euro, comunque un debito importante, nonostante si siano verificati tre eventi eccezionali, tre fattori importanti, più trasferimenti da parte dello Stato, più 19 milioni di euro trasferiti da parte dello Stato, ulteriori 18 milioni di euro, un incremento dovuto alla gestione degli anni precedenti, una sorta di conguaglio e nonostante le decine di migliaia di prestazioni sospese e non riposizionati causa Covid. Quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati e si chiude comunque con un debito di 3 milioni di euro, vergognoso. Abbiamo scoperto che solamente nell'anno 2021 rispetto al 2019 ci sono state 159 mila prestazioni di assistenza territoriale in meno e accessi in pronto soccorso in meno, quindi immaginate quanti soldi si sono risparmiati e 2.933 ricoveri ordinari in meno, quindi nonostante tutto questo risparmio si va verso questo debito di 3 milioni di euro. Abbiamo registrato ancora una spesa farmaceutica schizzata alle stelle, 95 milioni di euro di spesa farmaceutica a fronte di un tetto massimo di 59 milioni e una spesa farmaceutica convenzionata di 45 milioni di euro a fronte di un tetto di 44 milioni, quindi schizzata alle stelle. La cosa ancora più grave, forse la più grave di tutte, è la mobilità extraregionale che ci è costata 32 milioni di euro.